234 morti da inizio dicembre, oltre 100 solo nell'ultima settimana. La marca trevigiana sta vivendo i giorni più bui dall'inizio della pandemia. Stamane i nuovi positivi erano 676 ed il lavoro nei Covid Point è cresciuto a ritmo esponenziale. Complessivamente tra i tamponi fatti Covid Point e i tamponi fatti per verificare facciamo dei 10-11 mila tamponi al giorno, cioè facciamo tantissimi screening e quindi troviamo tanti positivi. Circa il 15% manifesta sintomi e necessita di cure ospedaliere. Gli ultimi due giorni, due o tre giorni, noi abbiamo avuto picchi importanti. Noi sostanzialmente, mi diceva nelle riunioni giornaliere che facciamo anche con il SUEM, abbiamo avuto 500 chiamate praticamente al giorno, di cui di queste 500, oltre 130 persone sono afferite ai pronti soccorsi dell'UR2. Quindi l'immagine è un volume estremamente elevato. L'area del Monte Benunese e Asolano continua ad avere una percentuale di infezioni superiore alla media regionale, fase critica nella marca anche sul fronte dei ricoveri. Noi restiamo sempre ancora nel picco che va dai 460 ricoveri al giorno fino ai 500. Oggi siamo intorno a quella cifra 484, quindi un numero considerevole. Intanto anche Treviso si prepara al vaccino con le prime 120 dosi che verranno somministrate il 27 dicembre. Noi faremo ovviamente anche dal punto di vista simbolico ai nostri operatori delle malattie infettive, della pneumologia e delle terapie intensive che sono quelli, insieme a qualche medico dell'USCA, sono quelli che sono in prima linea per la lotta al Covid-19. L'azienda sanitaria confida sui comportamenti responsabili durante le feste. L'atto d'amore verso i propri cari è quello di evitare i contatti. È un periodo effettivamente dove tutti ci sentiamo più liberi di esternare il nostro affetto verso gli altri, verso i familiari, verso gli amici. Abbiamo ecco questo obbligo morale di evitare di fare questo, proprio perché abbiamo a cuore le persone che ci sono vicine e che amiamo.